La sezione Sociocop di San Giovanni, Unicop Firenze in generale sono sempre molto attenti nel proporre tematiche e sottoporre all'attenzione del pubblico argomenti di estremo interesse. Dopo l'iniziativa con l'onorevole Pietro Bartolo, che è stata veramente sconvolgente e emotivamente intensa, questa nuova iniziativa con Andrea Segrella, presentazione di due suoi libri, pone la nostra attenzione su un tema che troppo spesso banalizziamo, lo spreco alimentare, che troppo spesso è pensato solamente come buttiamo via troppa roba di quello che ci avanza da mangiare. In realtà Segrella dimostra come spreco alimentare è un tema molto più ampio, che riguarda anche la qualità del cibo che utilizziamo direttamente e l'impatto che complessivamente ha sul sistema dei rifiuti, ma anche sul sistema delle produzioni. Segrella è peraltro uno dei massimi esperti per quanto riguarda lo spreco alimentare e l'agronomia, essendo anche fondatore e direttore dell'Osservatorio Internazionale sullo spreco alimentare e lo sviluppo sostenibile. Quindi sarà sicuramente un pomeriggio nel quale poter parlare di tematiche molto utili per noi consumatori e anche per avere un ambiente e una qualità di vita migliore.